Cesare Salvadori il 25 maggio riapre lo storico Stadio Philadelphia, cosa vuol dire per i tifosi di Torino questo momento? Il momento è particolarmente significativo, direi storico, perché sono 20 anni che i tifosi Granata e la cittadinanza stanno aspettando che questa ferita nel tessuto urbano e nel cuore dei tifosi si rimargini e finalmente forse il 25 riusciamo a farlo rimarginare perché apriremo le porte su quello che è un gioiellino che è il rinato Stadio Philadelphia che riceverà ed accoglierà dalle 10 di mattina alle 8 di sera tutti i cittadini e i tifosi che vorranno venire a trovare, a forte aperto. E qual è il suo ricordo personale, il suo pensiero su questa data? Il ricordo personale è quando andavo da più giovane o da ragazza a vedere le partite del Torino naturalmente non ho visto quelle del grande Torino perché ero un po' troppo giovane però quelle successive le ho viste e quindi devo dire che sono state sempre molto importanti e molto emozionanti per la mia vita e un ricordo indimenticabile.